Che cosa chiedete alla Whirlpool o al Ministero? Chiediamo al Ministero di cercare di portare il lavoro, di rivellare più che altro il lavoro. 8 ore a Varese, a Siena, 8 ore a Napoli e 8 ore a Carinaro. Perché non è possibile che là si stanno 800 persone che sono state assunte adesso con lavori interinari, 100 a Siena, a Cassinetta stanno addirittura facendo lavori di straordinario, mediamente 20-30 ore di straordinario settimanale. Quindi noi chiediamo di rivellare il lavoro anche a noi da Sud Italia. Faccio un appello al governo di non abbandonarci e che la Campania fa parte sempre dell'Italia. Grazie a tutti.